Antonio Pietro Niro, si rinnova come sempre la collaborazione tra Ciclo Club e Avis, ormai un sodalizio inscindibile. Più persone hanno detto che la bicicletta, oltre ad essere una passione al sport, fa bene alla salute e l'Avis, insomma, quando si parla di salute in prima linea. Certo, noi siamo in prima linea, sempre con la salute, sempre con la donazione, con il Ciclo Club, ormai sono anni che fa avanti questa collaborazione. Questo è il secondo trofeo Avis che è stato organizzato tra Avis, Vasto e il Ciclo Club. Purtroppo deve essere la terza edizione, non siamo riusciti per i noti problemi Covid, quindi lo scorso anno è saltata. Ecco, l'Avis è in grande attività, soprattutto negli ultimi periodi, con la nuova sede, tanti soci che entrano a far parte della vostra famiglia, la questione delle donazioni, che insomma, siete sempre in prima linea in Abruzzo per quanto riguarda le donazioni di sangue. Sì, noi siamo attualmente, siamo la seconda sede Avis, quindi la sezione comunale più grande in provincia, la seconda in regione. Attualmente non arriviamo ancora all'autosufficienza perché come donatori siamo sempre pochi e speriamo sempre di raccogliere nuove entrate e nuove persone in modo da poter raggiungere l'autosufficienza addirittura in regione perché sarebbe un nostro obiettivo oramai prefissato da tanti anni. Entriamo nella stagione estiva, storicamente tutti gli anni in estate c'è insomma un appello affinché le donazioni non vengano meno, soprattutto in questo periodo di vacanze, perché poi bisogna sempre tenere alte le scorte. Quindi, insomma, in tempi come questi, in cui anche poi dal punto di vista sanitario le cose stanno andando decisamente meglio, bisogna tenere alta la guardia e voi siete sempre un presidio. Sì, noi siamo sempre in prima linea, siamo purtroppo, siamo su un paese di mare, siamo attraversati dall'autostrada, una delle due autostrade più importanti d'Italia, quindi dove c'è più traffico. In questo periodo c'è sempre la carenza di sangue, quindi noi ringraziamo i nostri donatori per quello che fanno, quello che danno e aspettiamo sempre nuovi neodonatori per aumentare questa cosa, visto che purtroppo tra incidenti stradali, incidenti in mare, incidenti domestici, sempre di più è la necessità di sangue.